Tutto è pronto, possiamo partire! Tutto è pronto! Non importa, troverò un nuovo percorso. Voltare a destra. Stoccerò un nuovo percorso. Tenersi a sinistra. E... Tenersi a sinistra. E... Voltare a sinistra. E... Asimistra. Herschö, check down e la mucha gente. I... Huff... 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 Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.